Obiettivi ambiziosi, uno è quello di portare a 200 il numero di soci under 40 iscritti, oggi sono solo un'ottantina, e strade ben chiare da percorrere per traguardare al futuro delle aziende del territorio. Per il nuovo presidente dei giovani industriali della Liguria, Jacopo Callà, il mandato inizia con tanto entusiasmo e la consapevolezza di dover rilanciare una cultura imprenditoriale a stretto contatto con il mondo universitario. Tra i temi da seguire da vicino, senza dubbio, quello dello sviluppo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale fa parte, forse è proprio il cuore del mio programma di presidenza per questi anni, perché penso che sia una tecnologia dirompente, assolutamente disruptive, come dicono gli americani, quindi che arriva e rimane, non è una tecnologia passeggera, questa cosa rimarrà nel tempo, quindi le aziende dovranno necessariamente iniziare a lavorare nell'ottica che l'intelligenza artificiale deve entrare al loro interno e le procedure e le persone dovranno essere adeguatamente formate. Tra gli obiettivi delineati dal presidente dei giovani industriali Liguri c'è il rafforzamento dei rapporti di collaborazione con l'università. La formazione è essenziale per indirizzare i giovani verso il mondo del lavoro e oggi più che mai diventa essenziale far combaciare le esigenze delle aziende con i percorsi attivati nelle facoltà. Ai giovani poi un consiglio prezioso. Per realizzare quello che sono i propri sogni uno deve anche seguirli i propri sogni, quindi deve avere anche il coraggio di investire, deve avere il coraggio di buttarsi nella mischia. Quello che mi viene da dire ai giovani che si stanno laureando, agli studenti, è di provare perché quando uno ha 25 anni ha un'enorme paracadute perché ha l'età, se anche sbaglia di un anno o due anni non ha perso nulla o praticamente nulla, quindi può continuare benissimo. Però non provarci invece è un grave errore, allora a me piacerà via molto parlare con i ragazzi e parlare con l'università, sono già in contatto con la prolettrice dell'università di Genova per portare questo messaggio.